beh sarò anche senza mani ma io sono milionario ciao a tutti ragazzi sono l'edotech e bentornati in questo nuovissimo video super super veramente fantastico assolutamente da non perdere perché chi di voi non vuole essere milionario ma nessuno della vita ha voluto essere milionario o quantomeno avere un tenore di vita migliore e questo ragazzi è il gioco che vi garantisce proprio questa cosa però ovviamente come tutti i giochi per diventare milionari c'è una pena da pagare se si riesce a scamparla o a non pagarla insomma perché praticamente c'è il rischio di perdere le mani come avete visto nella main intro cioè ho perso le due mani ma almeno sono milionario quindi scrivete qui sotto nei commenti chi di voi si taglierebbe entrambi le mani cioè si farebbe tagliare entrambi le mani per diventare milionario e ragazzi lasciate un bel pollicione in su per sostenere il canale iscrivetevi se non l'avete già fatto per non perdervi i prossimi video i prossimi fantastici episodi e noi entriamo subito all'interno del gioco ed eccoci qui ragazzi all'interno di Handless Millionaire Season 2 ragazzi questo gioco è veramente geniale praticamente non ci sono domande da rispondere ma ci sono veramente i soldi da prendere andiamo subito play round 1 e iniziamo subito questo fantastico gioco e vediamo anche come funziona praticamente dobbiamo premere a sinistra per prendere il soldo e premere a destra dello schermo per riportarlo da noi ovviamente non dobbiamo fare in modo che ci venga tagliata la mano altrimenti ai 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 ragazzi perdiamo una mano ma ovviamente possiamo continuare a giocare perché abbiamo la seconda mano però comunque ovviamente è meglio non perderle le mani se no vedete che vabbè adesso vi faccio vedere subito come funziona perdiamo le mani entrambe le mani e vedete che praticamente ragazzi abbiamo perso entrambi le mani e praticamente possiamo guardare una pubblicità per riparare le nostre mani e continuare a giocare oppure premiamo su ok e comunque ce ne andiamo a casa con i nostri bigliettoni che abbiamo preso fino ad adesso quindi meno mani più soldi la sostanza è quella quindi cerchiamo di fare la scalata della vita ragazzi e diventiamo assolutamente milionari questo ovviamente è il primo livello quindi è molto facile ma dopo vedremo che sarà sempre ma sempre più difficili nei rando successivi i primi 150 bigliettoni presi e andiamo avanti con il gioco ragazzi attenzione perché uh uh che rischio che rischio adesso fa un doppio tocco vedete che è sempre regolare e cosa dire ragazzi mamma mia top 2650 bigliettoni subito al round 2 presi così facili facili easy easy ragazzi andiamo al round 3 e vediamo che cosa succede perché oddio 1 2 3 1 2 3 ok tacta doppio colpo per noi qua è ancora semplice vedete che in alto a sinistra ci dice quanti bigliettoni ancora devono cadere quanti ce ne mancano per portarli a casa tutti in questo round ma ragazzi 16.650 dollaroni per noi e già qui andiamo a spornare round 4 per noi oddio doppia ghigliottina molta molta attenzione uh 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 per poco per poco maia a volte non mi becca a volte non mi becca eccolo lì l'aspirapolvere mi becca tutti i soldi che sono dall'altra parte e stavo dicendo che a volte non mi becca il tasto di destra del ritorno della mano e non capisco perché attenzione tac 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 oh che colpaccio super colpaccio e siamo già abbiamo già portato a casa 106.650 dollaroni e andiamo alla round 5 ragazzi uh addirittura si sposta cos'è sta roba? oh mio dio no ah 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 ho già perso la mia prima mano ho già perso la mia prima mano ma andiamo e continuiamo perché abbiamo una seconda mano abbiamo la seconda mano per noi quindi dobbiamo riuscire uh buona buona occhio occhio presi anche questi ok attenzione è molto difficile ragazzi buona doppio colpo per noi attenzione attenzione non so cosa sia quella cosa eppure ha congelato tutto ed ecco che cos'era mamma mia che spettacolo possiamo prendere tutti i bigliettoni che vogliamo finché è congelato attenzione però c'è il ritorno attenzione ok ci mancano gli ultimi l'ultimo l'ultimo bigliettone oh attenzione mamma mia oh sì grande così una mano persa e 656.650 dollaroni per noi e se prima eravamo già contenti qua ragazzi la patata ci insegue round 6 per noi andiamo avanti uh doppia doppia brutta il doppio è sempre brutto e anche sfalsato attenzione dobbiamo fare molta attenzione quella aspirapolvere ci tornerà molto molto comodo aspettiamo ancora un po' aspettiamo un po' che tocchio tac tac eccolo uh aspiriamo tutto aspiriamo tutto siamo già arrivati a 1.250.000 buona buona così occhio occhio sì 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 uh ultimi tre bigliettoni uh doppio colpo non me l'aspettavo non me l'aspettavo questa con un click solo ho preso due banconote top aia aia eccolo 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 sì grande uh milionari alla stragrande e praticamente abbiamo messo in tasca due milioni perdendo una mano sola round sette per noi andiamo avanti andiamo avanti adesso sarà molto ma cos'è quella roba è difficilissimo oddio subito abbiamo perso la seconda mano subito ragazzi possiamo guardare un video per riparare le nostre mani ma pensate se nella vita reale veramente potessimo guardando una pubblicità tranquillamente seduti sul divano riparare le nostre mani credo che a questo gioco ci andrebbe chiunque e ovviamente mi sono riparato le mani con una pubblicità perché così ragazzi possiamo andare avanti rifacciamo round sette e speriamo che vada meglio oh 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 uh uh non ho capito quella cosa che cos'era occhio occhio eccolo lì doppio colpo per noi buona così mamma mia sì 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 l'ho letta l'ho letta buona così ok occhio eccolo lì adesso ho capito qual è la cadenza di questa ghigliottina uh uh che colpo che colpo che colpo mancano non mancano molte banconote non ne mancano molte siamo a 4 milioni 4 milioni ragazzi cioè non li vedrò mai in tutta la mia vita così tanti soldi oh mio dio che colpo le ultime due banconote le ultime due sì buona 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 oh 5 milioni che spettacolo e un ferrari può accompagnare solo round 8 continuiamo la nostra sfida con le nostre manacce ok adesso i bigliettoni sono sempre di più valgono 300 mila l'uno valgono sempre di più ma ovviamente è sempre più difficile anche se non sembra molto difficile in questo caso non lo so mi sembra strano ragazzi però ne mancano solo 8 bigliettoni buona così uh si è scongelata attenzione attenzione la lama torna operativa è tornata operativa uh uh che tempiste che tempismo che tempistica ragazzi che roba ma cadono sempre più in fretta no che male che male persa la prima mano ma continuiamo a giocare perché abbiamo due mani per fortuna siamo stati creati con due mani e ripetiamo questo round 8 ragazzi allora siamo a 8 milioni e possiamo intascare ancora possiamo intascare ancora ragazzi ai 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 buona doppio colpo così doppio colpo eccolo lì spettacolo e si che è anche facile pura e prima mi sono tagliato la mano proprio da da imbecille proprio ok uh 10 milioni per noi mamma mia bottino preso guardate trophy room spettacolo siamo arrivati a 10 milioni non voglio neanche immaginare quale sia il trofeo più grande ragazzi non voglio neanche immaginarlo oh spettacolo oh spettacolo occhio ok mamma mia sento già la colina in bocca guardate quanti soldi guardate cosa ho fatto che cosa ho fatto oh mio dio avete visto tra un taglio e l'altro ragazzi li ho portati a casa tra un taglio e l'altro 12 milioni e mezzo di dollaroni e round 9 raggiunto round 9 raggiunto attenzione perché adesso si sposta anche uh uh attenzione 400 mila a bigliettone no vabbè no c'era ragazzi l'ultima cosa che avete visto era la protezione per il braccio quindi se ci fossimo tagliati quello ci avrebbe salvati io direi ragazzi di intascare i nostri 13 milioni di dollari andare a casa con le mani distrutte e tagliate perché tanto possiamo rifarcele come Iron Man e quindi saranno anche migliori di prima ebbene ragazzi si conclude qui questo fantastico gioco avete visto che Endless Millionaire è veramente un gioco molto molto bello è veramente una pressione sentite una pressione tra le mani perché tra le vostre mani quelle del gioco non si capisce più niente dovete premere veloce per mettere la mano e prendere quei bigliettoni veramente fantastici spero che questo gioco vi sia piaciuto ditemelo qui sotto nei commenti e sopra soprattutto come già detto ditemi se anche voi rischiereste le vostre mani per diventare milionari e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto qui sotto nella descrizione trovate il link alle diverse pagine social e noi ci vediamo nel prossimo video kawabanga a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti.